Il grande palco che a Natale scorso ha ospitato il presepe monumentale di Castelli in Piazza San Pietro sarà presto rimontato nel parcheggio dell'Università di Teramo con vista a Gran Sasso e si trasformerà in un auditorium all'aperto. L'intuizione del Rettore Edino Mastrocola di rendere questa struttura fruibile per attività di carattere culturale ha trovato il sostegno da parte della Fondazione Tercas che si è impegnata in questo progetto di riutilizzo. Una sinergia tra istituzioni che vede coinvolta anche la Curia di Teramo per promuovere lo sviluppo del territorio. Quanto è stato importante finanziare un palco che poi ha visto tutto il mondo a Piazza San Pietro? Moltissimo, moltissimo perché al di là dell'ovvio onore di realizzare qualcosa che è stato ospitato a Piazza San Pietro c'è stata anche la forma volontà del Consiglio di sostenere il territorio. È stata una vera e propria operazione di marketing territoriale che forse pochi hanno letto ma che poi anche grazie alle polemiche che sono nate intorno a questo presepe così trasgressivo, così nuovo, così innovativo hanno portato tutta l'Italia a parlare di castelli, della sua tradizione ceramica. Il palco sarà rimontato nel parcheggio da oltre 300 posti auto nel lato nord del campus di Coste Sant'Agostino con l'intento di trasformare l'area in una grande arena all'aperto in grado di ospitare eventi, spettacoli e magari anche un cinema drive-in. L'idea è quella di utilizzarla per eventi musicali, per esempio la consegna delle pergamene ai ragazzi che hanno dovuto conseguire la laurea online, eventi teatrali e chissà anche qualcosa legato al cinema. Però direi un auditorium con una possibilità, con uno spazio enorme, un parcheggio antistante a forma di conchiglia quindi di fatto una platea naturale e il gran sasso che viene riportato sul palco, dietro il palco stesso. Lasciatemi dire però che la struttura è già presente nel nostro parcheggio grazie anche alla donazione fatta dalla Curia però se verrà rimontata è grazie esclusivamente alla Fondazione Tercas.